Salani presenta, per la collana Anche i giovani leggono i classici, La metamorfosi di Franz Kafka, letto da Edoardo Scarpetta. Capitolo 1 Un mattino, al risveglio da sogni inquieti, Gregor Samsa si trovò trasformato in un enorme insetto. Sdraiato nel letto sulla schiena dura come una corazza, bastava che alzasse un po' la testa per vedersi il ventre convesso, bruniccio, spartito da solchi arquati. In cima al ventre la coperta, sul punto di scivolare per terra, si reggeva malapena. Davanti agli occhi gli si agitavano le gambe molto più numerose di prima, ma di una sottigliezza desolante. A che cosa mi è capitato? Pensò. Beh, non stava sognando. La sua camera, una normale camera d'abitazione, anche se un po' piccola, gli appareva in luce quieta, fra le quattro ben note pareti. Sopra al tavolo sul quale era sparpagliato un campionario di tellerie svolto da un pacco, Samsa faceva il commesso viaggiatore. Stava appesa a un'illustrazione che aveva ritagliata qualche giorno prima da un giornale, montandola poi in una graziosa cornice dorata. Rappresentava una signora con un cappello e un boa di pelliccia, che, seduta ben ritta, sollevava verso gli astanti un grosso manicotto, nascondendovi dentro l'intero avambraccio. Gregor girò gli occhi verso la finestra, e al vedere il brutto tempo, si udivano le gocce di pioggia battere sulla lamiera del davanzale, si sentì invadere dalla malinconia. E se cercassi di dimenticare queste stravaganze facendo un'altra dormitina, pensò, ma non poteva andare a effetto il suo proposito. Era abituato a dormire sul fianco destro, e nello stato attuale gli era impossibile assumere tale posizione. Per quanta forza mettessi nel girarsi sul fianco, ogni volta ripiombava indietro supino. Ma tentò almeno cento volte, chiudendo gli occhi per non vedere quelle gambette divincolantisi, e a un certo punto smise perché un dolore leggero, sordo, mai provato prima, cominciò a pungergli il fianco. Buon Dio, pensò, che mestiere faticoso ho scelto, dover prendere il treno tutti i santi giorni. Ho molte più preoccupazioni che se lavorassi in proprio a casa, e per di più ho da sobbarcarmi a questa tortura dei viaggi, all'affanno delle coincidenze, a pasti irregolari e cattivi, a contatti umani sempre diversi, mai stabili, mai cordiali, all'inferno tutto quanto. Sentì un lieve pizzicorino sul ventre, lentamente appoggiandosi sul dorso, si spinse più in su verso il capezzale, per poter sollevare meglio la testa, e scoprì il punto dove prudeva. Era coperto di tanti puntolini bianchi, di cui non riusciva a capire la natura, e con una delle gambe provò a toccarlo, ma la ritirò subito, perché brividi di freddo lo percorsero tutto. Si lasciò ricadere su Pino. Queste levatacce abbruttiscono, pensò. Un uomo ha da poter dormire quanto gli occorre. E dire che certi commessi viaggiatori fanno una vita da favorite dell'Arem. Quante volte la mattina, rientrando alla locanda per copiare le commissioni raccolte, li trovo che stanno ancora facendo colazione. Mi comportassi io così col mio principale. Sarei sbattuto fuori all'istante. E chissà, potrebbe anche essere la miglior soluzione. Non mi facessi scrupolo per i miei genitori già da un pezzo mi sarei licenziato. Sarei andato dal principale e gli avrei detto chiaro e tondo l'animo mio. Ma roba da farlo cascar giù dallo scrittoio. Curioso poi quel modo di starsene seduto lassù e di parlare col dipendente dall'alto in basso. Per giunta, dato che è duro d'orecchio, bisogna andarli vicinissimo. Beh, non è ancora persa ogni speranza. Una volta che abbia messo insieme abbastanza soldi da pagare il debito dei miei, mi ci vorranno altri cinque o sei anni. Ma non aspetto neanche un giorno e do il gran taglio. Adesso però bisogna che mi alzi. Il treno parte alle cinque. E volse gli occhi alla sveglia che etichettava sul cassettona. Santo cielo, pensò. Erano le sei e mezzo. Le sfere continuavano a girare tranquille. Erano anzi già oltre. Si avvicinavano ai tre quarti. Che la sonneria non avesse funzionato. Da letto vedeva l'indice ancora fermo sull'ora giusta, le quattro. Aveva suonato. Non c'era dubbio. E come mai, con quel trillo così potente da far tremare i mobili, lui aveva continuato pacificamente a dormire. Via. Pacificamente proprio no. Ma forse proprio per questo più profondamente. E che fare ora? Il prossimo treno partiva alle sette. Per arrivare a prenderlo, avrebbe dovuto correre a perdifiato. Il campionario era ancora da rievolgere. E lui stesso non si sentiva troppo fresco in gamba. Del resto, fosse anche riuscito a prenderlo. I fulmini del principale non glieli cavava più nessuno. Perché al treno delle cinque era andato ad aspettarlo il fattorino della ditta. E sicuramente già da un pezzo aveva ormai riferito che lui era mancato alla partenza. Era una creatura del principale. Un essere invertebrato. Ottuso. Darsi malato. Sarebbe stato un ripiego sgradevole e sospetto. Durante cinque anni di impiego, Gregor non si era mai ammalato una volta. Certamente sarebbe venuto il principale. Insieme al medico della cassa mutua, avrebbe deplorato coi genitori la svogliatezza del figlio e tagliando corto a ogni giustificazione, avrebbe sottoposto il caso al dottore, per il quale non esisteva che gente perfettamente sana ma senza voglia di lavorare. E si poteva poi dire che in questo caso avesse tutti i torti. In realtà, Gregor, a parte una sonnolenza veramente fuori luogo dopo tanto dormire, ma si sentiva benissimo. Anzi, aveva un appetito particolarmente gagliardo. Mentre in gran fretta avvolgeva tra sé questi pensieri, senza sapersi decidere a uscire dalle coltri, e la sveglia in quel momento batte le sei a tre quarti, sentì bussare lievemente alla porta dietro il letto. Gregor chiamò una voce, quella di sua madre. Manca un quarto alle sette. Non dovevi partire? Dolcissima voce. All'udire la propria in risposta, Gregor inurridì. Era indubbiamente la sua voce di prima, ma vi si mescolava come, salendo dai precordi, un irreprimibile pigolio lamentoso. Tal che solo al primo momento le parole uscivano chiare, ma poi, nella risonanza, suonavano distorte, in modo da dare a chi ascoltava l'impressione di non aver udito bene. Avrebbe voluto rispondere esaurientemente e spiegare ogni cosa, ma, viste le circostanze, si limitò a dire «Sì, sì, grazie, mamma, mi alzo subito». Evidentemente la porta di legno non permise che di là ci si accorgesse della voce mutata, poiché la mamma non insiste oltre e si allontanò. Ma il breve dialogo aveva richiamato l'attenzione degli altri familiari sul fatto che Gregor, contro ogni previsione, era ancora in casa. E già a una delle porte laterali bussava il padre, piano, ma a pugno chiuso. «Gregor? Gregor!» chiamò. «Che succede?» E dopo un breve intervallo levò di nuovo più profondo il richiamo a monitore. «Gregor! Gregor!» Intanto, all'uscio di rimpetto, si udiva la sommessa implorazione della sorella. «Gregor, non stai bene? Ti serve qualcosa?» «Ecco, son pronto», rispose lui in tutte e due le direzioni e si sforzò di togliere alla voce ogni inflessione strana, pronunziando molto chiaramente le singole parole e intercalandole con lunghe pause. Il padre, infatti, se ne tornò alla sua colazione, ma la sorella sussurrò. «Apri, Gregor, te ne scongiuro!» Ma Gregor, si guardò bene dall'aprire, anzi, lodò in cuor suo l'abitudine presa viaggiando di chiudere sempre, anche a casa, tutte le porte a chiave. Per prima cosa voleva alzarsi tranquillo e indisturbato, vestirsi e soprattutto far colazione, e solo dopo pensare al resto. Già che, se ne rendeva ben conto, standosene a letto ad almanacare, non avrebbe mai risolto nulla di sensato. Si ricordava che già parecchie volte, a letto, gli era avvenuto di sentire qualche dolorino, provocato probabilmente da una posizione sbagliata, e aspettava ansioso di vedere di leguarsi una a una quelle chimere. Che poi il cambiamento di voce non fosse altro che il prodromo di un potente raffreddore, malattia tipica della sua professione, gli pareva indiscutibile. Non ebbe alcuna difficoltà a rimuovere la coperta. Gli bastò gonfiarsi un poco, ed essa cade a terra da sé. Ma lì cominciavano i guai, segnatamente a causa dell'inusitata larghezza del suo corpo. Per alzarsi avrebbe dovuto far forza sulle braccia e sulle mani, mentre non possedeva più che quella fila di gambette annaspanti, senza tregua, nei modi più svariati e incontrollabili. Se cercava di piegarne una, era proprio quella la prima a irrigidirsi. E quando finalmente riusciva a farle compiere il movimento voluto, tutte le altre si dimenavano come scatenate in un'agitazione intensissima e dolorosa. «Uno non dovrebbe mai fermarsi a letto senza motivo», riflette Gregolo. Cercò di uscire dal letto dapprima con la metà inferiore del corpo. Ma questa parte, che egli non era ancora riuscito a scorgere né a figurarsi nell'aspetto, si dimostrò difficile a smuoversi. Gli ci volle un tempo infinito. Allora, quasi fuori di sé, raccolta ogni energia, si buttò in avanti alla cieca, ma sbagliò direzione. Picchiò, con violenza contro il fondo del letto. Sentì un male atroce e capì che quella zona del suo corpo era forse, per il momento, proprio la più sensibile. Tentò allora di iniziare la manovra dalla parte superiore e girò cautamente il capo verso la sponda del letto. Questo movimento gli fu agevole e con l'intera massa del corpo, nonostante la lunghezza e il peso, riuscì infine a compiere la stessa manovra. Ma quando si trovò con la testa sospesa fuori dal letto, provò paura. Continuando così, avrebbe finito col cascare di sotto e a meno di un miracolo si sarebbe ferito la testa. E guai se perdeva i sensi proprio adesso. Meglio rimanere a letto, piuttosto. Ma quando, dopo altrettanta fatica, giacque di nuovo sospirando nella posizione precedente, allo spettacolo delle sue gambette che si azzuffavano più ostinate che mai, disperò di poter ridurre a ragione quell'intemperanza. Era pazzesco, si disse, restare più a lungo colicato. Tanto valeva giocare il tutto per il tutto, se ciò gli dava una pur minima speranza di staccarsi dal letto. Nel tempo stesso non trascurava di ripetersi che una calma, calmissima riflessione era più utile di ogni decisione precipitosa. In quegli attimi figgeva con la maggiore intensità possibile lo sguardo verso la finestra. Ma purtroppo la vista del mattino nebbioso non si riusciva nemmeno a scorgere il lato opposto della viuzza, era tutt'altro che adatta a infondergli fiducia e buon umore. «Già le sette», si disse, udendo nuovamente lo scocco della sveglia. «Già le sette è ancora questa nebbia». E per qualche minuto rimase lì fermo a respirare lievemente, quasi si aspettasse da quell'assoluta calma il rientro delle cose nella loro normalità. «Ma allora, prima che siano passate le sette e un quarto, disse tra sé, devo assolutamente essere in piedi. Del resto, nel frattempo, saranno già venuti a chiedere mie notizie dall'ufficio, aprono prima delle sette e si dispose a far uscire dal letto con una sola spinta l'intero corpo. Lasciandosi cadere giù a quel modo, purché badasse a tenere il capo ben sollevato, poteva sperare di non farsi male. La schiena sembrava dura, battendo sul tappeto non avrebbe sofferto. Più che altro lo preoccupava il pensiero di non poter evitare di far parecchio rumore, il che avrebbe certo provocato se non spavento perlomeno a prensione dietro tutte le porte. Ma era un rischio da correre. Si era già buttato per metà fuori del letto. Il nuovo metodo adottato era più un gioco che una fatica non aveva che da procedere scrolloni. Quando gli venne in mente come ogni cosa si sarebbe facilmente risolta se qualcuno l'avesse soccorso. Due persone robuste ma se la sarebbero cavata benissimo bastava che gli passassero le braccia sotto il dorso arcuato lo sfilassero dal letto deponessero a terra il carico e avessero poi quel tantino di pazienza da aspettare che lui si ribaltasse sul pavimento dove c'era da sperarlo le sue gambette avrebbero finalmente avuto una funzione. Però a prescindere dal fatto che le porte erano chiuse a chiave era proprio il caso di chiamare aiuto. nonostante la situazione angosciosa quel pensiero lo costrinse a sorridere. Già era arrivato al punto di far fatica a serbare l'equilibrio aumentando la violenza degli scossoni e tra poco sarebbe stato necessario decidersi una volta per tutte dato che alle sette e un quarto non mancavano più che cinque minuti quando il campanello d'ingresso squillò è qualcuno dell'ufficio pensò Gregor e si immobilizzò quasi mentre il brulichio delle zampette si faceva più vorticoso che mai. Per un attimo tutto fu silenzio non aprono si disse Gregor abbandonandosi a chissà quale folle speranza ma poi come sempre la domestica andò con passo deciso alla porta e aprì. Bastò a Gregor sentire la prima parola di salute del visitatore per capire chi era il procuratore in persona ma perché mai egli era condannato a lavorare in una ditta dove la minima mancanza risvegliava subito i peggiori sospetti gli impiegati erano dunque tutti dal primo all'ultimo delle canaglie non c'era tra loro neppure un uomo devoto e fedele che se gli capitava una mattina di perdere qualche ora di lavoro ammattiva dal rimorso ed era letteralmente incapace di alzarsi dal letto ma non sarebbe bastato mandare un apprendista a informarsi ammesso che di informazioni ci fosse bisogno proprio il procuratore doveva venire mostrando a tutta l'incolpevole famiglia che su quel caso poco chiaro doveva indagare per forza la sagacia di un procuratore e più per l'agitazione causatagli da questi pensieri che non obbedendo a una decisione consapevole Gregor si gettò a tutta forza fuori dal letto e ci fu un colpo sensibile ma non un vero e proprio fracasso il tappeto attutì alquanto il tonfo e la schiena si rivelò più elastica di quanto pensasse perciò la violenza del rumore non fu molto grande aveva però dimenticato di badare la posizione del capo e l'aveva picchiato al suolo dalla rabbia e dal male lo girò e lo rigirò sfregandolo sul tappeto è caduto qualcosa lì dentro disse il procuratore della stanza di sinistra Gregor cercò di figurarsi se anche al procuratore non sarebbe potuto capitare alcunché di simile a ciò che oggi era capitato a lui era un'eventualità che si doveva pur ammettere ma quasi a significare un'aspra replica a tale congettura proprio in quell'attimo il procuratore mosse alcuni passi ben fermi nella stanza contigua facendo scricchiolare gli stivaletti di vernice dalla stanza di destra la sorella bisbigliò per avvertirlo Gregor c'è il procuratore lo so disse Gregor quasi tra sé non azzardandosi ad alzare la voce tanto da farsi udire da lei Gregor attaccò ora il padre dalla stanza di sinistra è venuto il signor procuratore a informarsi come mai non sei partito col treno delle cinque noi non sappiamo cosa rispondergli e lui d'altronde vuol parlare personalmente con te aprigli dunque sarà tanto gentile da scusare il disordine in cui si trova la camera buongiorno signor Samsa interloqui il procuratore con voce alta e cordiale è indisposto disse la madre al procuratore mentre il padre continuava a parlare attraverso la porta Gregor è indisposto signor procuratore mi creda come avrebbe potuto altrimenti perdere il treno quel ragazzo non ha altro che il lavoro in testa mi fa quasi arrabbiare perché la sera non esce mai adesso è stato in città otto giorni ma tutte le sere è rimasto a casa seduto a tavola con noi zitto zitto a leggere il giornale o a studiare l'orario delle ferrovie la massima distrazione che si concede è qualche lavoruccio d'intaglio in due o tre sere per esempio ha fatto una cornicetta rivedesse quanto è carina e ha pesa il muro lì in camera appena apre potrà vederla comunque sono proprio contenta che sia venuto lei in persona signor procuratore noi da soli non saremo mai riusciti a convincere Gregor ad aprirci la porta ostinato con me e di sicuro non sta bene anche se stamattina non ha voluto ammetterlo vengo subito disse Gregor ad agio e circospetto senza muoversi per non perdere una parola della conversazione non saprei trovare altra spiegazione signora rispose il procuratore speriamo non sia nulla anche se devo pur dire che noi uomini d'affari purtroppo o per fortuna dipende dai punti di vista per considerazione di opportunità professionale dobbiamo molto spesso saper vincere qualche lieve malessere dunque ti decidi ad aprire al signor procuratore chiese impaziente il babbo bussando di nuovo alla porta no disse Gregor nella stanza di sinistra si fece un silenzio penoso in quella di destra la sorella cominciò a singhiozzare ma perché la sorella non raggiungeva gli altri certo si era appena alzata e non aveva ancora iniziato a vestirsi e perché piangeva perché lui non si alzava e non apriva al procuratore perché stava rischiando di perdere il posto sicché il principale avrebbe ricominciato a perseguitare i genitori con le vecchie ingiunzioni ma non era ancora il caso di angustiarsi per questo lui Gregor era pur sempre lì e non pensava minimamente ad abbandonare la famiglia al momento è vero se ne stava coricato sul tappeto e nessuno conoscendo il suo stato avrebbe potuto seriamente pretendere che aprisse l'uscio al procuratore ma questa piccola scortesia per la quale del resto sarebbe stato facile trovare in seguito una scusa adatta non poteva costituire motivo sufficiente a un licenziamento in tronco e a Gregor sembrava che sarebbe stato assai più ragionevole adesso lasciarlo in pace anziché infastidirlo con pianti e prediche ma già gli altri non sapevano che pesce pigliare ed era logico che agissero così signor Samsa tuonò il procuratore con accento vibrato che sta succedendo lei si barrica in camera risponde a monosillabi mette i suoi genitori in un'ansia grave quanto ingiustificata e trascura sia detto fra parentesi in grado veramente inaudito i suoi doveri d'ufficio le parlo a nome dei suoi genitori e del nostro principale ed esigo tassativamente una sua dichiarazione immediata e inequivoca tra secolo davvero tra secolo credevo di conoscerla come persona posata è ragionevole ed ecco che invece sembra volersi mettere a far sfoggio di ghiribizzi in realtà il principale stamani mi accennava a una possibile spiegazione della sua mancanza facendo riferimento a un certo incasso recentemente affidatole ma io ho quasi dato la mia parola d'onore che era una supposizione infondata adesso però vedendo la sua inconcepibile testardaggine mi passa davvero la voglia di intercedere anche minimamente per lei e la sua posizione non è delle più sicure in un primo tempo era mia intenzione esporle tutto ciò a quattro occhi ma dato che lei mi fa perdere tempo senza costrutto non vedo perché non debbano esserne informati anche i suoi genitori dunque il suo rendimento negli ultimi tempi è stato molto insoddisfacente è vero ammettiamolo che questa non è la stagione più propizia agli affari ma una stagione in cui non si faccia nessun affare signor Samsa è cosa che non esiste ma che non può esistere ma signor procuratore gridò fuori di sé Gregor dimenticando ogni norma di prudenza tanto era agitato le apro subito all'istante un lieve malessere un capogiro mi ha impedito di alzarmi sono ancora coricato ma ormai mi sono rimesso ecco sto scendendo da letto pazienti ancora un minuto non mi muovo tanto facilmente come speravo però di malessere non si può più parlare vedi come certe volte uno viene preso alla sprovvista ma ieri sera stavo benissimo i miei lo sanno o per meglio dire già ieri sera sentivo come un piccolo avvertimento me lo si poteva leggere in faccia credo perché mai non ho subito avvisato l'ufficio ma si spera sempre di poter vincere la malattia senza bisogno di rimanere a casa signor procuratore abbia clemenza per i miei genitori quanto ai rimproveri che lei mi ha mossi ma non c'è nulla di vero nessuno mi ha mai detto una parola al riguardo ma forse non ha letto le ultime commissioni che ho spedite immancabilmente partirò col treno delle otto queste poche ore di riposo mi hanno ristabilito non si trattenga signor procuratore fra un attimo sarò in ufficio abbia la bontà di dirlo al principale e gli presenti i miei ossegui Gregor sciorrinò in gran fretta tutto questo discorso quasi inconsapevole di ciò che diceva frattanto grazie alla pratica acquistata per uscire dal letto non gli era stato difficile avvicinarsi al cassettone e si appoggiò a esso nel tentativo di drizzarsi voleva realmente aprire la porta e farsi vedere voleva parlare col procuratore era ansioso di sapere che cosa avrebbero detto alla sua vista gli altri che ora l'assillavano tanto se si spaventavano lui non aveva più responsabilità e poteva star tranquillo se invece lo prendevano come uno spettacolo normalissimo neanche per lui c'era motivo di agitarsi e affrettandosi un po' avrebbe senz'altro potuto essere per le otto alla stazione la parete liscia del mobile lo fece scivolare parecchie volte ma alla fine con un ultimo slancio riuscì a tirarsi su non si accorgeva nemmen più dei dolori al basso ventre per quanto strazianti fossero si lasciò cadere contro la spalliera di una sedia vicina e con le zampette ne strinse il bordo finalmente riusciva a padroneggiare il proprio corpo tacque porgendo l'orecchio a ciò che il procuratore stava dicendo sono riusciti a capire una parola chiese il procuratore ai genitori che stia prendendosi gioco di noi ma per carità gridò la madre già in lacrime forse è ammalato gravemente e noi lo tormentiamo Grete Grete chiamò poi a gran voce mamma rispose la sorella dall'altro lato si scambiavano discorsi attraverso la stanza di Gregor corri immediatamente dal medico Gregor è malato dal medico presto hai sentito come parla era una voce di bestia disse il procuratore in tono stranamente smorzato rispetto all'estrida della madre Anna Anna gridò il padre attraverso l'anticamera in direzione della cucina va subito a chiamare un fabbro e già le due ragazze correvano nell'anticamera facendo frusciare le gonne come aveva potuto la sorella vestirsi così presto e spalancavano la porta d'ingresso che poi non si sentì sbattere evidentemente l'avevano lasciata aperta come avviene nelle case colpite da qualche grave sciagura Gregor intanto si era fatto molto più calmo dunque gli altri non capivano le sue parole perché a lui fossero parse abbastanza chiare più chiare di prima forse perché il suo orecchio vi aveva fatto l'abitudine a ogni modo ormai la gente era del parere che in lui vi fosse qualcosa non del tutto regolare ed era disposta ad aiutarlo la prontezza la sicurezza con cui erano state prese le prime misure lo rincoravano si sentiva nuovamente accolto nella cerchia umana e sperava da quei due uomini il medico e il fabbro che non gli apparivano ben distinti qualcosa di grandioso e di sorprendente per garantirsi negli imminenti colloqui decisivi la più chiara voce possibile tossicchiò lievemente attento a non farsi udire poiché poteva darsi non si sentiva più di deciderlo da solo che quel rumore suonasse diverso dalla voce umana nella camera attigua frattanto si era fatto silenzio forse i genitori erano seduti al tavolo col procuratore e bisbigliavano o forse tutti stavano a origliare dietro la porta lentamente Gregor si spinse verso l'uscio con la sedia poi scostata quest'ultima si appoggiò tutto eretto al battente i polpastrelli delle sue zampine erano un po' appiccicosi e per un istante si riposò dallo sforzo quindi si accinse a girare con la bocca la chiave della serratura purtroppo gli pareva proprio di non avere denti e con che cosa allora afferrare la chiave in compenso però le mascelle erano ben robuste e con loro aiuto la chiave poté essere smossa anche se così facendo si ferì e un liquido bruno gli sfuggì di bocca cadendo sulla chiave e sgocciolando a terra sentano disse il procuratore nella camera accanto sta girando la chiave questa frase fu per Gregor di grande incoraggiamento ma pensò tutti avrebbero dovuto incitarlo anche suo padre e sua madre su da bravo Gregor avrebbero dovuto gridargli su dai forza con la serratura e immaginando che l'interesse generale fosse concentrato sui suoi sforzi chiamò a raccolta ogni energia e disperatamente si diede da fare intorno alla chiave man mano che andava girandola ballonzolava intorno alla serratura e sorreggendosi con la bocca si appendeva alla chiave o a seconda della necessità la spingeva in giù con tutto il suo peso finalmente la serratura scattò all'indietro con un suono nitido che fu per Gregor un vero richiamo alla realtà non c'è stato bisogno del fabbro pensò ripigliando fiato e posò la testa sulla maniglia per aprire del tutto la porta dato che fu costretto ad aprirla così l'aveva già dischiusa abbastanza largamente senza che nessuno l'avesse ancora scorto dovette girare ad agio intorno al battente mettendoci tutta la prudenza per evitare di andare goffamente a gambe all'aria prima di entrare nella stanza era ancora tutto impegnato in quel difficile movimento ne aveva modo di preoccuparsi d'altro quando udì un sonoro oh qualcosa di simile a un sibilo di vento uscir di bocca al procuratore e poi subito lo vide lui che era il più vicino all'uscio premersi la mano contro la bocca aperta e lentamente indietreggiare come spinto da una forza invisibile e graduale la mamma che nonostante la presenza del procuratore portava ancora i capelli sciolti alla guisa notturna e tutti irti guardò il padre giungendo le mani fece due passi in direzione di Gregor e infine cadde mentre le gonne si sparpagliavano intorno il volto invisibilmente sprofondato nel seno il padre strinse il pugno con aria irata quasi volesse ricacciare Gregor nella sua stanza si guardò attorno incerto nel tinello si coprì gli occhi con le due mani e scoppiò in un pianto che gli squassava il petto possente Gregor non entrò nella stanza ma si appoggiò al lato interno del battente fissato al suolo in modo da lasciar scorgere solo una metà del corpo e sopra di esso la testa piegata con la quale guardava gli altri nel frattempo l'aria si era fatta molto più chiara sull'altro lato della via si vedeva indistintamente un tratto dell'interminabile fabbricato color nero fumo era una clinica con le finestre che rigide e irregolari ne tagliavano la facciata continuava a piovere ma solo a grosse gocce visibili una a una e che si spiaccicavano al suolo distintamente la tavola era coperta di ogni genere di stoviglie per la colazione questa per il babbo era il pasto più importante della giornata ed egli soleva prolungarla per ore nella lettura di vari giornali proprio sulla parete di fronte era appesa una fotografia di gregor in servizio militare vestito da sottotenente con una mano sullo spadino sorrideva spensierato e pareva esigere rispetto per il suo portamento e la sua uniforme l'uscio verso l'anticamera era spalancato e poiché era aperta anche la porta di casa si scorgeva il pianerottolo e l'inizio della scala che conduceva in basso ecco disse gregor ben consapevole di essere stato l'unico a mantenere la calma ora mi vesto riavolgo il campionario e parto immediatamente volete lasciarmi partire una buona volta ecco lo vede anche lei signor procuratore non sono testardo lavorare mi piace certo i viaggi mi affaticano ma senza di essi non vivrei dove va signor procuratore in ufficio vero mi promette di riferire ogni cosa fedelmente vede per un momento uno può non sentirsi in grado di lavorare ma allora è giusto che ci si ricordi quel che ha fatto prima e che si abbia fiducia in lui nella sua capacità di riprendere il lavoro con più zelo e impegno che mai una volta superato l'ostacolo sono così obbligato verso il principale lei lo sa bene d'altra parte ho da pensare ai miei genitori e mia sorella mi trovo nella peste ma me la caverò vedrà lei però non mi complichi ancora la situazione tenga le mie parti inditta nessuno ha in simpatia i viaggiatori di commercio si sa tutti credono che guadagnino denari appalate che facciano la bella vita e non hanno mai occasione di riflettere un po' a questo pregiudizio ma lei signor procuratore lei ha la possibilità di rendersi conto della realtà delle cose più chiaramente del restante personale più chiaramente lasci che glielo dica dello stesso principale che nella sua qualità di diretto interessato può essere facilmente indotto a dare un giudizio sfavorevole sui suoi dipendenti e poi lei lo sa il viaggiatore sta lontano tutto l'anno ed è vittima di una quantità di chiacchiere di coincidenze di lagnanze ingiustificate contro cui non ha modo di difendersi perché quasi sempre non ne sa nulla e solo quando esausto torna a casa da un viaggio comincia a sentire su di sé le dolorose conseguenze di cause che non è più in grado di ricostruire signor procuratore non se ne vada prima d'avermi significato con una parola che almeno in piccola parte mi dà ragione ma fin dalle prime parole di gregor il procuratore si era voltato e sporgendo le labbra sopra la spalla scossa da tremiti guardava indietro verso di lui durante tutto il discorso di gregor non era mai stato fermo un istante ma sempre fissandolo si era pian piano rannicchiato contro il battente della porta quasi che un misterioso divieto gli impedisse di uscire già stava nell'anticamera e dal brusco movimento con cui per l'ultima volta stacò il piede dal pavimento del tinello si sarebbe detto che le suole gli bruciassero dall'anticamera fece un ampio gesto con la destra in direzione della scala come se lì lo aspettasse qualche liberazione venuta dal cielo non era assolutamente il caso gregor lo capì subito che il procuratore se ne andasse sotto quell'impressione altrimenti il suo posto nella ditta correva i più seri pericoli i genitori non lo comprendevano altrettanto bene in tanti anni si erano fermamente convinti che quell'ufficio rappresentasse per lui una sistemazione definitiva e le attuali ansie avevano tenebrato in loro ogni possibilità di previsioni assennate mentre lui aveva conservato tale facoltà era necessario trattenere il procuratore calmarlo persuaderlo conquistarlo insomma ne andava dell'avvenire di gregor e dei suoi familiari almeno fosse stata lì sua sorella lei era intelligente aveva già pianto quando lui ancora giaceva tranquillo sulla schiena certamente si sarebbe imposta a quel cicisbeo del procuratore avrebbe chiuso la porta di casa e nell'anticamera sarebbe riuscita a dissipare i suoi terrori ma la sorella non c'era bisognava che si muovesse lui e senza riflettere che non aveva la minima idea delle sue attuali capacità di spostamento né d'altra parte che poteva darsi anzi era molto probabile che anche quel suo ultimo discorso fosse riuscito incomprensibile si staccò dall'uscio e avanzò attraverso la soglia desideroso di raggiungere il procuratore che si aggrappava comicamente con le due mani alla ringhiera del pianerottolo ma ecco che subito perso l'equilibrio con un piccolo grido cadde giù sulle sue zampette all'istante per la prima volta in quella mattina provò una sensazione fisica di benessere posate ben salde al suolo le gambe se ne accorse con gioia gli ubbidivano perfettamente fremevano anzi dalla voglia di portarlo dove voleva andare e già gli pareva ad essere sul punto di liberarsi da ogni sofferenza ma nello stesso istante in cui oscillando per l'impulso ritenuto si fermò sul pavimento di fronte a sua madre e a poca distanza da lei questa che fino allora sembrava tutta tramortita balzò fulmineamente in piedi a braccia aperte e dita divaricate aiuto signore iddio aiuto gridò tenendo la testa china quasi cercasse di vedere meglio Gregor ma in contrasto con tale atteggiamento indietreggio smarrita e dimenticando di avere alle sue spalle la tavola apparecchiata vi si sedette sopra precipitosamente quasi avesse perso la testa ne parve minimamente accorgersi che lì accanto dal grosso bricco riverso il caffè usciva a fiotti inondando il tappeto mamma mamma disse Gregor sottovoce guardando su a lei per un momento non pensò affatto al procuratore ma vedendo il caffè che si spandeva non riuscì a trattenere un ripetuto schiocco delle mascelle verso l'alto all'udirlo la madre cacciò un altro urlo e fuggendo dalla tavola cadde tra le braccia del padre accorrente ora però Gregor non aveva tempo di badare ai genitori il procuratore già sulle scale ancora una volta guardava indietro il mento appoggiato alla ringhiera Gregor prese la rincorsa per essere certo di acchiapparlo l'altro probabilmente ne ebbe il sospetto perché fece un balzo di parecchi gradini e sparì non senza gettare un che cheggio per l'intera scala purtroppo anche il babbo che finora aveva conservato una relativa calma a quella fuga del procuratore perse davvero la testa e anziché rincorrerlo infatti o perlomeno non ostacolare Gregor nel tentativo di inseguirlo afferrò il bastone che colui aveva lasciato su una poltrona insieme al cappello e al soprabito e agguantato con l'altra mano un giornale dalla tavola pestando i piedi e agitando bastone e giornale si diede a ricacciare Gregor nella sua stanza a nulla valse che Gregor lo implorasse né d'altronde le sue preghiere venivano intese per quanto umilmente egli volgesse il capo lo scalpiccio del babbo si faceva più forte per di più la mamma incurante del freddo aveva aperto una finestra e tutta sporta di fuori si premeva il viso tra le mani fra la strada e la scala soffiò un impetuoso riscontro d'aria che fece svolazzare le tende e frusciare i giornali sparsi sulla tavola alcuni fogli volteggerono a terra inesorabile il babbo incalzava lanciando fischi da salvaggio e Gregor ancora inesperto dell'arte di retrocedere si muoveva lentamente se solo avesse potuto voltarsi la sua camera era lì a due passi ma temeva che la lunga giravolta facesse perdere la pazienza al babbo nella cui mano il bastone minacciava incessantemente di calargli un colpo sulla testa o sulla schiena alla fine però non ebbe altra scelta tanto più che come notò sgomento nell'indietreggiare non riusciva a serbare la direzione giusta sicché tra continui atterriti sguardi in tralice del padre cominciò il più velocemente possibile ma in realtà assai ad agio a girare su se stesso forse la sua buona volontà apparve chiara al babbo perché questi non solo gli lasciò compiere il movimento iniziato ma a tratti gli venne in aiuto da lontano con la punta del bastone se solo avesse smesso di fischiare in quel modo insopportabile gregor ci perdeva la testa aveva già quasi compiuto l'intera rotazione quando sempre intento al sibilo si sbagliò e continuò a girare per un altro buon tratto ma quando al fine la sua testa si trovò felicemente davanti alla soglia dell'uscio fu evidente che il corpo era troppo largo per passare il babbo nel suo stato attuale non ebbe inutile dirlo nemmeno l'idea di aprire l'altro battente e di lasciare così a gregor sufficiente spazio assillato com'era dall'idea di farlo rientrare presto in camera non avrebbe mai consentito i complicati armeggi di cui gregor abbisognava per drizzarsi e tentare il passaggio da ritto al contrario come se non ci fosse più alcun ostacolo lo spingeva innanzi raddoppiando lo strepito già alle spalle di gregor risuonava qualcosa che non assomigliava più alla voce di un solo babbo non c'era proprio da scherzare ed egli a tutto rischio s'avventurò attraverso la porta il suo corpo si sollevò da un lato e rimase bloccato nel mezzo della soglia con un fianco tutto lacero mentre sul bianco battente apparivano chiazze ripugnanti era immobilizzato e non si sarebbe più tolto di lì con le zampette che da un lato penzolavano inerti nel vuoto dall'altro si schiacciavano dolorosamente a terra se il babbo non gli avesse menato una gran botta stavolta davvero liberatrice perdendo molto sangue si precipitò in camera l'uscio fu richiuso col bastone e finalmente l'uscio fu richiuso